Oh, ma che è sta finale apocalittico? Che è successo? Ma adesso c'è un... È fanita! You're a gold-starring superstar hero And every gold, gold, gold says you're the best in the world Gold-starring superstar hero You let your head down and play to the fans You're a gold-starring superstar hero And every gold, gold, gold says you're the best in the world Gold-starring superstar hero Benvenuti a Sabato Trippa! Mamma mia Mauro, ma che intro hai fatto? È un intro di livello assoluto Cioè tu il venerdì sera devi uscire perché sennò poi il sabato dai queste performance assolutamente scarse Non rendi Ingerman Straordinario Allora, benvenuti e bentrovati a Sabato Trippa in diretta sui 99.8 di Radio Yes La grande radio della città di Roma Esattamente Però non sento una voce che di solito faceva questa introduzione Meno male, ma ti rendi conto che bello Senti che pace Il giorno prima, vigilia del derby Perché, cioè, ormai è noto che lo vuoi negare Vigilia del derby Non c'è L'hai dovuto dire Senti che pace Sottolineando questo provasso che ho io alla orta, ovviamente, che si soffia al cuore Un saluto a Riccardo Lodi in cabina di regia Sennò ci dimentichiamo e poi giustamente diamo onore al merito Onore al merito, giustamente, lui grandissimo, vedo lì che traffia col telefono a chiamare tutti i nostri grandissimi contatti Allora, oggi è una grande puntata L'ultima puntata con noi Oggi non interverrà nessuno Non interverrà nessuno Paolo Zenobi è impegnato sui campi C'è un campionato senza soluzioni di continuità Quello della terza categoria romana Ma sono tutti impegnati Perché anche Edoardo, da coach, da mister, è impegnato sui campi della U-World Night Ah, immagino, è una grandissima squadra E però, se ci fosse qualcuno che ci vuole contattare Ricordiamo i nostri contatti Innanzitutto in video sul canale 635 del Digitale del Reste Sconsigliatissimo Sconsigliatissimo per la presenza di Mauro Sì, una peccatura E invece le dirette 0665796348 Esattamente Tutto il numero... Eh? Hai visto? Sei stato davvero bravo Vogliamo dire subito gli sms E anche e soprattutto ricordare però la pagina Facebook di Sabato Trippa Dove noi entreremo Likes, like storming Like storming, ragazzi Dove intervengono dei personaggi di una caratura Di una caratura internazionale Sì, abbiamo Sedorf, Paolo Maldini, Paolo Zenobi Abbiamo tutti, tutti Paolo che potete conoscere Allora Allora oggi, vigilia di derby Insomma, siamo partiti facili subito con un Requiem di Verdi Un diesire di livello internazionale Per sottolineare la grande amarezza che ci attende Ovvero questo... Cioè, comunque vada sarà un insuccesso, possiamo dire Alessio? Sì, sarà un insuccesso perché domani... Guarda, un mio amico ha commentato una cosa giustissima su Facebook Ha detto, secondo me domani sarà più grande il ramarico Per chi perderà la partita Che la gioia per chi la vincerà Perché poi fondamentalmente parliamo sempre di una Coppa Italia A Roma sembra che stiamo giocandoci una finale di Champions Questa volta non regge Cioè, il passaggio da trofeo ambitissimo a porta ombrelli Non potrà durare l'arco di 10 minuti No, no, no Per me domani è assolutamente vita o morte Senza mezzi termini Si parla, si parla soprattutto Di... non so se l'hai capito Che mi sono dimenticato assolutamente quello che stavo dicendo Perché ho visto un grandissimo Inkes detto Osram Questo allenatore che si accende Ti ho visto che ti sei perso nei meandri di scavo De uno Jurgen Klopp Insomma, questa sarà una finale davvero straordinaria Però, insomma, dicevo Che poi è, scusa, è Clark Kent Si, è Clark Kent biondo però Si, Clark Kent che è Mesh Si, sembra uno dei protagonisti di questi film anni 80 Questo professore di in college, eh? Questo Klopp 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 è il classico rumore, no? Il classico rumore è ovviamente del dressace di Piazza di Siena Vabbè, perché dai Basta farei di toppe varie Intanto Lenny Kravitz Lenny Kravitz Nello staff tefk Grandissimo Tefk, tefk Del Borussia Dortmund Ma anche un Klyvert potrebbe sembrare Quelle treccine Beh, insomma, bioncare un po' Devo dire Klyvert le treccine ce le ho avute Però corte, erano corte O Taribo West anche Un grandissimo Taribo West Che segnò, tra l'altro, di testa Mi ricordo Al Ghezenkirchen Yes Che cos'è? No, era l'anno successivo Della disfatta interista Contro lo Schalke a San Siro Che era 97-98 Gol di testa, mi sembra Di proprio di Taribo West Festeggiato con una danza straordinaria Dal connazionale Nuan Kogano La famosa danza delle streghe di Gabri Vod Una grande canzone Tutti ricordiamo per la sua celebrità Si dice che il derby Potrebbe salvare la stagione di entrambe le squadre Ammesso che ci sia qualcosa da salvare dopo questa cavalcata trionfale Secondo me è un po' riduttivo Sono assolutamente pessimista Io direi che insomma questa è una partita del secolo Io non vorrei mettere pressione ancora di più Ma non siamo agitati Tutto il secolo sono quattro notti di seguito Che mi sogno in differenti modalità il derby Sia come risultato finale Sia il fatto che non riesco ad arrivare allo stadio È una cosa incredibile Il sogno più ameno che ho fatto È stato tipo che c'era un assassino accanto al letto Questo produce il mio subconscio A meno però Magari non vuol dire il radio Perché non sono parole che stanno da utilizzare Poi sono delle nazionalità Che purtroppo che si chiamene È vero che Non sono molto bene Furtimamente Salutiamo il popolo a meno Salutiamo il popolo a meno Che sono un po' triste È vero Anche loro Vabbè Tanto scorrono le immagini Del riscaldamento Del riscaldamento Insomma Una rifinitura Una rifinitura Vanno a 150.000 km orari Questi palloni Guarda che bello Guarda Questa è come io Quando vado a fare la partitella di calcetto Martedì Solo di prima Solo di prima Ecco quello è un grandissimo capello Come quando vado io dal barbiere Dico Senta non è di fa Berlino anni 30 Esco tipo Britney Ci capiamo proprio alla grande Che c'è Edoardo? No non c'è Purtroppo Edoardo Le quote Oggi le quote le diamo noi Dai No meglio che no Io non nomino Diamo i numeri No daremi i numeri Daremi i numeri Oggi è l'ultima puntata Poi senti che bello Come di Consuelo Io e te Capito One to one Io e te Un grande amore Non è niente più Ma c'è questo Luca Che è vero Dove sa? Ma non lo riusciamo Non riusciamo A fare una sorpresa Alla cerimonia Possiamo dirlo Alla cerimonia Di un grande checco Che si sta laureando Quindi complimenti Complimenti a Checco Vestito come uno stregone Un wizard Non so se hai visto La foto dell'annuario Ho visto la foto dell'annuario Che è una cosa inquietante Sembra quasi da lapide Però Hanno questa usanza in Spagna Vabbè probabilmente Per i festeggiamenti Che ne susseguono Molti diciamo Sono rimasti Io mi torrò Salute Io mi torrò Attrezzare A fare una foto del genere Perché insomma Dove sta? Perché è Tricoria Ah per Tricoria Tra la sua C'è un nuovo Splendido cipitero Che accoglierà Ma insomma Da comprare subito Un 3-4 lotti 3-4 lotti Per risiedere Vicino alla squadra No Cino alla Roma Forza Roma Vabbè Non stiamo in chiamare Non basta No infatti Adesso dobbiamo parlare Soprattutto di queste finali Oggi non abbiamo il moderatore Quindi oggi è solo Forza Roma Mauro Forza Grande Non ci posso credere Non ci voglio pensare Fortunatamente questa sera C'è questo evento Che un po' ci prende Ma che ci prende Sì Mazza Mazza Sì Ancora calare Poi i bicciocchi Ecco A proposito dei finali Questa faccela prenda a male Con una Coca Cola Formato lattina Riuscì a farne 187 Ma questo è un piccolo Azzaretti D'annata Ragazzi da Terza C Ragazzi da Terza C Tra l'altro Claudio Risi Penso sia regista Ma soprattutto Lo sceneggiatore Lo sai chi era? No Moccia Ma che stai Tutta la gente No No ma come no Cioè ragazzi Cioè lui dai ragazzi da Terza C A tre metri sotto terra Diamo 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 a Moccia Che è di Moccia Ragazzi Sceneggiatore dei ragazzi Terza C Che è uno dei più grossi Capolavori No dopo X-File La serie che ho seguito Pensavo se stessi a X-Factor Ti stavo già puntando una penna Dentro la retina X-Factor No X-File Non gradito molto Mancini Mister X Lo ricordi quando stava a Fiorentina Dai ragazzi da Terza C Penso un capolavoro Capolavoro assoluto Girato tra l'altro Al liceo scientifico Morgagni Morgagni Zampetti Sharon Zampetti Sharon Zampetti Tra l'altro le si chiama Sharon proprio di nome Sharon Gusberti Aveva una collezione Di pantecane a casa E quindi c'era questa espressione Quando tutti entravano In casa Vabbè comunque lei Ovviamente bellissima Sharon Sharon pure di nome Milanese Ariolona dei vielli Proprio assoluti C'era un grandissimo Renato Cestier Che faceva massimo Il palestrato Che fece solo quello Ma ti ricordi invece Elias e Tisini Penso che sono riusciti a prendere La coppia più brutta Della storia Le conciavano pure un po' No le conciavano Era indogine Quello secondo me Era proprio Problemi naturali Insomma Eppure Pensa Pensa che precursori Che sono stati 20 anni fa 25 anni fa Già affermavano La teoria Che io sponsorizzo oggi Che la busta Se la tira Perché loro Se la tiravano Ma non è Quello È vero È vero Ma queste sono Le teorie dei barachini Non so mai Volete trovare Su tutti i sussidiari Illustrati della gioinezza I sussidiari E poi inizieremo a parlare Di tutte le più importanti finali Che abbiamo visto Il corso della storia A seguire dopo la pausa Già E poi inizieremo a parlare